Ciao a tutti, oggi prepareremo il gelato variegato alla Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Ingredienti sono zucchero, cacao amaro, panna fresca per dolci e Nutella. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e il cacao. Ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 8. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Posizionare la farfalla. Aggiungere la panna che deve essere ben fredda. Noi consigliamo di metterla per 45 minuti in congelatore. E ad azionare il bimbi senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. Il gelato è ben montato, trasferiamolo in una ciotola. aggiungere la Nutella e con una forchetta varighiamo il gelato. Aggiungere un altro po' di Nutella sopra. Riporre in congelatore per almeno 3 ore. Trascorso il tempo il gelato è pronto, serviamolo. Gelato variegato alla Nutella. Si conserva in congelatore per 7-10 giorni. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!